bentornati con un nuovo video oggi fare una specie di storming brainstorming con le vostre domande su fgl pokémon go purtroppo da ieri sera bar oggi il programma che avevamo trovato nell'ultimo video sembra non funzionare più l'unico metodo attuale rimane quello di avere play service non aggiornato io ho trovato una soluzione che può essere più sbagliativa per farlo ogni volta segnate che si gioca pokémon go si fa questo trucco ma ve lo spiegherò in un altro video una cosa che di cui volevo parlare chiedervi scusa il fatto che il mio telefono è andato in palla l'ultimo video e segnava come ultima versione a 12.6 e invece la 12.8 infatti anche quella applicazione che ho messo in descrizione funzionava solo sul 12 e 6 allora per prima cosa e molti mi chiedete perché vi collegate a pokémon go e non vi danno pokémon nei pokestop giro è a vuoto dovete provare a fare questa procedura qui gaming security settings e poi abilitare il helper burner softbank cool cool down time chart poi queste sono le varie modifiche che si possono fare a me ha aiutato a rendere più stabile fgr ad esempio spuntare simulator location bearing se non vi dovesse andare di punto in bianco il gioco dovete fissare google play o meglio dovete fissare la cash per fissare la cash andate in memoria scusate l'altra memoria memoria di archiviazione svuota cache ecco fatto dopodiché basta fate partire tutto quanto qui possiamo modificare il nostro joystick aumentare e diminuire il nostro autofix scegliere i vari metodi e via dicendo cose che già sappiamo possiamo tenere premuta la nostra posizione mettete ai preferiti devo farlo partire ok andiamo da prima pokémon go in molti hanno avuto il problema che pokémon go ci pertesse un po a caricare e non solo a caricare ma dava come voce da disconnettere quello purtroppo problema che ogni tanto capita su pokémon go a prescindere dall'applicazione fgl per quanto riguarda per chi non vuole fare il don grade del pre service che comunque un'operazione pericolosa c'è più che pericolosa rischiosa perché rischia di impallare alcune applicazioni google e non solo consiglio di aspettare l'aggiornamento a cui stanno lavorando tutti gli sviluppatori di applicazioni fake gpl una settimana fa lo sviluppatore di fgl pro ha detto che ci stava lavorando nel gruppo facebook ufficiale ci sono molti che lo stanno usando tranquillamente col don grade consiglio che do è che se si fa don grade di usare un telefono secondario non il primario potrebbe essere una soluzione queste sono le domande che avete fatto principalmente nel canale quasi tutti l'ultima domanda che è molto richiesta se funziona su huawei su huawei qualcuno è riuscito a farlo andare ma la procedura sembrerebbe un po più complicata per fare sia il don grade che preferendo le fgl diciamo prima che ci fosse questo problema della play service questo è tutto ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti